amici tecnologici benvenuti in un nuovo video e allora oggi andremo a fare due o tre video differenti e il primo è su un pacco batterie che c'è stato commissionato da un nostro cliente che è questo il secondo video che andremo a fare sarà sul test sempre di questo pacco batterie e il terzo video sarà sul montaggio diciamo finale e test finale pronto all'uso per questo ordine abbiamo utilizzato esclusivamente celle a litio panasonic come potete andare a vedere sono queste sono le nostre cgr 18650 cg sono celle di eccellentissima qualità la scelta del cliente è stata su questa perché hanno diciamo un plus in più di capacità rispetto a diciamo una parte delle commerciali ecco che abbiamo disponibile il resto potevamo fornire al cliente o avesse accettato anche un pacco batterie simile per una sony celle della della sony oppure samsung sanio altri modelli vi ricordo che sono tutte celle diciamo originali tutte celle brandizzate non parliamo di celle cinesi perfetto questo invece il nostro pacco batterie che utilizziamo qui in laboratorio diciamo come esempio di composizione ecco della struttura superiore inferiore quella centrale questa è fatta da celle sanio e niente tre per cinque che può essere cinque serie per tre paralleli o tre serie per cinque paralleli in base alla richiesta del cliente questo nello specifico andiamo a parlare di questa perché molto ma molto interessante questa è una batteria che oggi abbiamo diciamo avviato le lavorazioni che nei prossimi giorni andremo a completare poi mandare al nostro committente il pacco batteria misura circa 27 centimetri 26 e mezzo per un'altezza di circa tre e mezzo per tre e mezzo no per quattro e la richiesta e diciamo che molto particolare il cliente ci contatta diciamo dopo aver contattato su e giù in tutta italia e anche diciamo da venditori internazionali ricerca ad una batteria che abbia 33 36 volt con una capacità discreta ecco la problematica del nostro cliente era quella che questo pacco batteria dovrà essere montato dentro un moto scafo elettrico perciò le dimensioni della forma del nostro pacco batterie sono obbligatoriamente diciamo restrittive a quello che alla fine andate a vedere avevamo infatti una dimensione di ordine di circa cinque centimetri per cinque centimetri per massimo 30 come richiesta noi siamo riusciti a farlo un po più piccola mantenendo comunque un'ottima potenza capacità e ottime celle ovviamente perché stiamo parlando di celle panasonic ora andiamo a vedere il pacco batterie in funzione nel senso andiamo a connettere il nostro tester e ci darà le varie tensioni perciò andiamo a prendere la prima e abbiamo 4 e 19 abbiamo la seconda 8 8 e 38 la la terza 12 58 la quarta 16 e 77 in tutto il nostro pacco batterie ci dà una tensione di 33,5 volt ed è quello che il nostro cliente ci richiedeva non so se riusciamo a vederlo mettiamolo così abbiamo 33,5 volt con una capacità di circa 5000 miliamper ora che è ottima per il peso ma sarà sotto al chilo su per giù però ovviamente ancora è da completare mancano l'elettronica mancano i cablaggi mancano ancora una parte di struttura ma comunque questa diciamo è la il cuore della nostra batteria vi ricordo che possiamo andare a realizzare a realizzare i pacchi batterie personalizzati come questo in forme in pesi personalizzabili con celle sempre solo brandizzate questo ve lo sottolineo ciao